Fuga in avanti della Russia che, a tre giorni da un tentato colpo di Stato nella Repubblica Centrafricana, invia sul posto le sue truppe. Mosca non conferma, ma dal governo di Bangui parlano di centinaia di uomini. Analoga l'iniziativa del Rwanda, i cui contingenti sul campo, sotto bandiera ONU, sono stato oggetto di attacchi in occasione del fallito golpe. Kigali accusa gruppi ribelli appoggiati dall'ex presidente centrafricano François Bozizet, un'interpretazione accreditata anche da Russia, Francia, Stati Uniti e Unione Europea che, insieme alla Banca Mondiale, lo hanno invitato domenica a deporre le armi. Timore della comunità internazionale è che si voglia ostacolare la tornata elettorale del 27 dicembre, un voto parlamentare e presidenziale che sembra avviato a confermare il capo di Stato uscente Fosta en change to d'era, alla guida del paese. Al governo per dieci anni dal 2003, proprio in seguito ad un colpo di Stato, Bozizet ha negato il suo coinvolgimento nel tentato Puc.